buongiorno famiglia sono a casa ciao caro ciao eh com'è no dico va bene non notate niente di nuovo? purtroppo no ma mamma scusa ma non hai notato questo trench che ho comprato tra l'altro a un prezzo davvero stracciato dai papà ma è una giacca da boomer piano con le parole sono pur sempre tuo padre ma cosa hai capito boomer cioè quelli nati durante il boom economico va bene ho capito sarà un trench un po' adattato però per quello che l'ho pagato anzi consiglio a tutti di seguire il mio esempio come ti dicevo eh questo cappotto è favoloso un cappotto che tra l'altro risolverebbe un sacco di problemi durante il periodo invernale ahah brave brave io mi compro i trench in saldo e voi parlate di cappotti costosissimi caro guarda che hai capito male mi prendi anche in giro adesso guarda che io ho sentito ero di là io ci sento bene non hai capito eh non hai capito io parlavo di cappotto mio allora mi dai ragione del tuo cappotto stavate parlando no cappotto mio è il servizio completo di eni gas e luce per l'isolamento termico degli edifici per evitare sprechi e risparmiare energia si vabbè chissà quanto costa chissà quanto costa puoi usufruire del super bonus fiscale fino al 110% e vale per le ville e i condomini lo so pure io vabbè avevo capito benissimo che stavate parlando di cappotto mio anzi adesso io vado di là e chiamo eni gas e luce col mio cellulare si dice smartphone che boom avvio sentito